Grazie consigliere Bianconi. Oggetto numero 21, interroga il consigliere De Luca, risponde l'assessore Coletto. La parola al consigliere De Luca. Grazie presidente. Attraverso questa interrogazione intendiamo porre luce su quella che è una situazione che oggettivamente va ad interessare delle famiglie già estremamente colpite e in difficoltà. L'altra volta avevo interrogato l'assessore Coletto per quanto riguardava la situazione di Andrea, un bambino ternano affetto da malattia rara con gravissima disabilità. Questa volta, seppur anche in quella situazione non ho avuto poi riscontri di una presa in carico da parte della regione, In questa situazione parliamo della situazione di Nicolò, che è un ragazzo affetto da una malattia neurodegenerativa rara, l'adrenulo-leuco-distrofia, che lo costringe alla ventilazione meccanica H24, necessitando di un'assistenza H24 per la copertura farmacologica, per controllare e monitorare la saturazione e i vari dispositivi di supporto alla respirazione, quindi che tutto riesca a procedere adeguatamente. I servizi attivati a seguito della recente rimodulazione, è bene ricordare che Nicolò non è nato con questa situazione, ma questa situazione è subentrata nella vita di questa famiglia nell'età di quando aveva 12 anni e questa situazione è andata solo nel 2017, dopo un ricovero di ben 4 mesi all'ospedale Bambin Gesù, la famiglia è riuscita ad ottenere servizi da parte della ASL2. Oggi, dopo la rimodulazione, lo stesso tipo di intervento che anche nel caso di Andrea è intervenuto, i servizi vanno a coprire esclusivamente una fascia oraria che va dalle 7.30 alle 19.30, costringendo i familiari di Nicolò sostanzialmente a rinunciare di fatto al sonno per gran parte della notte, per riuscire a assistere e verificare che le macchine funzionino. Quindi questa copertura limitata di personale sanitario riesce a malapena ad essere di sollievo a fronte di questa situazione. In tutto questo quadro, quello che è venuto a verificarsi è che il papà di Nicolò è stato purtroppo ricoverato in rianimazione a causa del Covid-19, quindi questa situazione drammatica è andata a sommarsi a quella già provata dell'assistenza. E quindi sostanzialmente è un caso come altri che nella nostra regione vanno a trovarsi in una situazione di vera invisibilità, in particolar modo nel momento in cui il sistema sanitario assistenziale va in saturazione, va al collasso e non ci sono strumenti che riescano a supportare ulteriormente chi già dà la sua vita, chi la dona completamente la sua vita nel corso della giornata, nel corso dell'esistenza per poter assistere chi ne ha bisogno. Quindi con questa interrogazione chiedo all'assessore Coletto quali azioni e quali risorse intenda mettere in campo per dare supporto fattivo a Nicolò e alla sua famiglia, nella fattispecie se intende attivare protocolli straordinari con relativa copertura economica per sostenere le persone con disabilità e i loro familiari durante l'emergenza Covid-19, anche considerando casi come questo ed eventuali azioni volte a limitare le percussioni che dinanzi a casi di contagio nel nucleo familiare titolari dei diritti possono gravare sull'organizzazione dell'assistenza. Non ultimo, ecco mi permetto di aggiungere, lo strumento dei Covid-Odel in altre regioni viene inserito proprio in questo quadro di tutela per non solo per tutelare la famiglia, permettere a chi è contagiato di tutelare la famiglia ma anche ai soggetti, tra virgolette, pulverati di poter essere tutelati. Grazie Consigliere De Luca, Assessore Colletto, prego. Grazie Presidente, ora evidentemente per ogni paziente di questo tipo affetto da patologie gravi verranno prese delle misure a sostegno delle famiglie, ma tornando a parlare di Nicolò, abbiamo inteso farci relazionare dall'equip multidisciplinare che ha preso in carico questo paziente che ha affetto a questa patologia rara e che ha bisogno effettivamente di essere sostenuto. Partiamo dal primo segnale che è un segnale dal punto di vista economico, il ragazzo è assegnatario di un sostegno evidentemente dovuto per legge rispetto alla patologia di un assegno mensile. In estrema sintesi, per una natura agile, in considerazione del fatto che c'è una relazione da parte della ASLU e che rimarrà agli atti naturalmente per quanto riguarda tutti gli interventi che sono stati fatti a sostegno della famiglia, abbiamo inteso fare un riassunto con dei dati molto rapidi da leggere. Dal 4 settembre del 2020 abbiamo 36 ore settimanali di infermiere più una notte a sostegno della famiglia, più abbiamo 55 ore di os sempre a sostegno della famiglia che in totale sono 91. Dal 25 settembre sono state ulteriormente incrementate le ore degli infermieri, sono arrivate a 70 ore settimanali, abbiamo una riabilitazione tre volte alla settimana e gli ossa per 21 ore la settimana. Successivamente c'è stata, come dire, la patologia del padre che è stato ricoverato in terapia intensiva, per cui si è subito riunita l'equip multidisciplinare e la direzione dell'ASLU e ha autorizzato a partire dal 23 ultimo scorso un incremento di 50 ore settimanali per 5 settimane, aggiungendo due turni di assistenza infermieristica a settimana per meglio sostenere la signora in questo momento di difficoltà che ci auguriamo si risolva nella maniera rapidamente e nella maniera più auspicabile, insomma, con la guarigione rapida del marito. Ecco, questo in buona sintesi sono gli interventi che abbiamo ritenuto di incrementare a sostegno ulteriore di questa famiglia, così gravemente colpita dalla patologia del figlio e come se non bastasse anche del ricovero del padre. Grazie. Consigliere De Luca, prego. Io la ringrazio, Assessore, e mi ritengo, diciamo, soddisfatto, previa, diciamo, verificherò poi puntualmente per quanto riguarda l'intervento nel caso specifico a sostegno. Credo che vada comunque inserito all'interno di un quadro, diciamo, generale, un protocollo di intervento non solo in situazioni, diciamo, di questa gravità e di questo tipo di, diciamo, di problema, ma anche per quanto riguarda, diciamo, le migliaia di situazioni meno, tra virgolette, drammatiche sotto il profilo, non perché siano meno drammatiche, ma sotto il profilo proprio della gestione in termini, ma che comunque comportano una situazione di isolamento, di, che già per persone che nella loro, diciamo, che hanno un contesto, tra virgolette, familiare, diventano difficili. Diventano difficili. Proprio anche stamattina ho avuto la segnalazione di un caso positivo che da oltre 20 giorni non era stato comunicato dalla ASL al Comune, quindi nell'attivazione dei servizi che vengono dai rifiuti a tutto il resto era rimasto, rimasto completamente fermo proprio nel momento, e verrà attivato solo nel momento in cui sostanzialmente dovrà uscire della quarantena. È chiaro che con queste difficoltà c'è bisogno di riprendere il toro per le corna e, in particolar modo, per finire il concetto e concludere, queste situazioni, ripeto, che sono un ostacolo spesso insormontabile anche per situazioni diverse, diventano estremamente più acute e estremamente più difficoltose per anziani, disabili, persone fragili. In questo tipo di situazione c'è bisogno quindi di intervenire con dei protocolli d'urgenza. Per esempio, l'altro giorno, diciamo, una delle questioni che vorrei mettere sul tavolo è anche quella che riguarda cose banali che però fanno parte della vita, ad esempio le riparazioni domestiche. In altre regioni sono state, diciamo, creati anche in collaborazione con l'associazione di categoria, dei protocolli di intervento per andare a intervenire all'interno di contesti domestici come queste. Comunque, ecco, io vorrei verificare, verificherò puntualmente i dati che mi ha fornito e quindi le chiederei anche se può inviarmi copia della relazione dell'Asda. Grazie. Oggetto numero 22, interroga la consigliera Meloni e Paparelli, risponde l'assessore Fioroni, do la parola al consigliere Meloni, giusto? Grazie, Presidente. Gli effetti della pandemia stanno pesando duramente sull'economia Umbra. Purtroppo, ma il grado, nonostante la cassa integrazione e il blocco dei licenziamenti, ci sono ulteriori famiglie e numerose famiglie in difficoltà. 27 mila sono i lavoratori interessati dagli ammortizzatori sociali e 81 milioni di euro i redditi persi. Fra i nuovi poveri dell'autunno 2020, purtroppo, ci sono anche piccoli commercianti, artigiani che hanno dovuto chiudere e persone che sono impiegate nel sommerso e che purtroppo non godono di particolari sussidi o aiuti pubblici. Oggi ci occupiamo essenzialmente, tra le varie altre crisi aziendali, di tre crisi aziendali. Una è la Treofan, un'altra è la Trafomec e un'altra è la San Gemini-Amerino. La situazione della Treofan, che è uno storico stabilimento chimico di Terni, e i gravi e irrispettosi, soprattutto, comportamenti tenuti dalla proprietà, il gruppo indiano, che dopo anni in cui ha tenuto sotto scacco lavoratori, sindacati ed istituzioni, avanzando promesse sul rilancio del sito di Terni, il 5 novembre scorso, nel corso di un incontro con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha annunciato di voler chiudere lo stabilimento Treofan di Terni, mettendo in liquidazione la società. Ora, 150 sono i lavoratori, considerando ovviamente anche il know-how che è stato sottratto da questa multinazionale e trasferendolo a Gindal e utilizzandolo in altri stabilimenti fuori dall'Italia. Sono molte le azioni che sono state intraprese in questi anni per mantenere nel territorio questo polo di eccellenza e molte le azioni intraprese non solo dalle istituzioni, ma anche dal sindacato. Il 12 novembre, peraltro, il Ministero dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, in risposta ad un'interrogazione parlamentare sulla vertenza Treofan, ha sollecitato il Parlamento ad intervenire con una normativa organica che possa garantire il nostro Paese proprio da questi atteggiamenti di chi arriva nel nostro Paese solo per fare business, acquisendo mercati e portando poi fuori dall'Italia il know-how, le competenze e le eccellenze e non lasciando nulla nei territori. Ricordo che la Regione dell'Umbria ha il dovere non solo di dare vicinanza ai lavoratori e di attivare dei tavoli con il Governo, ma in alcuni casi, come in quello del gruppo Amerino Acque Minerali d'Italia, ha anche l'autorità competente in tema di concessione e sfruttamento delle acque minerali. La vicenda San Gemini Acqua Sparta si trascina ormai da tempo e coinvolge circa 85 lavoratori. Nel 2014 la San Gemini fu acquisita da Ipessina e l'azienda impiegava 130 persone, fatturava 16 milioni di euro e imbottigliava quasi 200 milioni di litri di acqua all'anno. Il primo bilancio passivo nel 2018, l'anno in cui avvenne la fusione tra la San Gemini con la Norba Spaila Montecchio-Gardinello e la creazione del gruppo Acque Minerali Italiane. A quel punto l'azienda firmò un accordo che prevedeva un piano di investimenti per ammodernare gli impianti e soprattutto rilanciare il marchio, ma il piano purtroppo è rimasto carta e le strategie commerciali non hanno evidentemente funzionato. Attualmente gli 85 lavoratori sono soggetti a turnazioni di cassa integrazione, con tagli evidenti sia sui salari e ovviamente anche sugli stipendi. Nel frattempo la società, che ha debiti totali per circa 175 milioni, dei quali 70 verso le banche, è finita in concordato preventivo e ora si attende entro la fine anno la presentazione di un piano concordatario al Tribunale di Milano, in attesa del quale la società ha annunciato delle ristrutturazioni ambientali per tutti i siti del centro-sud. È stata già arrivata una formale manifestazione di interesse per acquisire il marchio San Gemini Amerino da parte della holding romana. Si è aperta invece nel frattempo una nuova vertenza dell'azienda Trafomec, che come sappiamo tutti si trova in Val Nestore, e conta ancora 100 lavoratori nel settore manifatturiero specializzato in trasformatori. Anche questa è un'azienda che negli anni ha dimostrato know-how ed eccellenza nel settore. Purtroppo ci sono state molte mobilitazioni anche nel 2019. Sicuramente il Covid, anche in questo caso, non ha accelerato i processi di ristrutturazione e non ha nemmeno aiutato il processo produttivo. Ma il 20 ottobre, a seguito di un incontro presenziato dal Presidente della società CAO e i sindacati, è stata annunciata la costituzione dell'ennesima nuova società controllata di diritto italiano dal nome Trafomec Europe Technologies SRL, che sarà presieduta da Giancarlo Elia Valori, noto dirigente industriale già alla guida di autostrade per l'Italia. Ora, sembra che anche il ramo di azienda sito in tavernelle confluirà molto probabilmente sotto questa nuova direzione aziendale. Intanto i sindacati hanno rassicurato i dipendenti che verranno espletati pagamenti delle tre mensilità non ancora pagate e alcuni arretrati regressi accumulati durante l'anno. Ora, siamo tutti un po' preoccupati per il tessuto socio-economico dell'Umbria, anche a seguito della pandemia, e che era già comunque duramente colpito. In questo caso parliamo di tre aziende importanti che non possono assolutamente essere né trasferite altrove e soprattutto parliamo ancora di 300 dipendenti con altrettante famiglie al seguito. L'industria Umbria, peraltro, registra i livelli più bassi di produttività italiani, un dato fortemente significativo per una regione a forte connotazione operaia. Quindi, tenuto conto delle situazioni in cui versano queste aziende, della forte preoccupazione che si sta verificando nel territorio Umbro e all'interno di questi singoli territori e singole aziende, soprattutto perché riteniamo che oggi debba essere tenuta alta l'attenzione sull'economia Umbra, soprattutto perché riteniamo che la regione dell'Umbria debba stare ai tavoli e debba anche però supportare, come hanno fatto in questo periodo, altre regioni con fondi propri attraverso i fondi FSE, quindi comunitari, che accompagnino anche processi di ristrutturazione e di riposizionamento strategico delle aziende quando accade che ci sia una crisi e una crisi importante, anche attraverso l'utilizzo di piani formativi o incentivi mirati per alcune categorie di lavoratori. Quindi noi chiediamo intanto quali strumenti intende la regione mettere in campo, in sinergia con il Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di verificare anche la solidità, nel caso di Trafomec, del nuovo ingresso, su cui confluirà anche il ramo di azienda di Tavernelli. Chiediamo anche quali azioni si intendano mettere in campo a tutela dell'occupazione, visto che lì la parte della regione è più importante in quanto, come autonomia, sugli stabilimenti San Gemini e Amerino. E anche quello che sta succedendo alla Treofan in questi momenti, in cui c'è anche una forte mobilitazione da parte dei lavoratori e dei sindacati, per evitare soprattutto i licenziamenti. C'è una rete di solidarietà che si sta attivando anche tra i lavoratori e non possiamo permetterci di lasciarli soli. Quindi è importante sapere su quali tavoli la regione dell'Umbra in questo momento sta operando e portando la propria voce, con quali azioni, con quali contenuti e con quali esiti. Grazie. Grazie, consigliere Meloni. Parola all'assessore Fioroni. Sì, allora, l'interrogazione è molto complessa e tre minuti, come spesso dico, sono pochi. Sicuramente la situazione dell'Umbria vede esposta la nostra regione per fattori di debolezza strutturale maggiormente esposta a folate congiunturali. Questo, richiamo un'interrogazione precedente, rende obbligatorio confrontarsi con un cambio di paradigma che alcune di queste vertenze, fra altre cose, stanno anche generando. Allora, io scinderei il caso San Gemini e il caso Trafomec dal caso Treofan. Il caso Treofan è un atto di pirateria svolto da un'azienda che ha tenuto un atteggiamento irriverente e rispettoso, forse criminale, nei confronti dello Stato italiano e della Regione Umbria. Fra altre cose, devo dire che la collaborazione e la presenza al tavolo della Regione, nel caso Treofan, è di piena sintonia con il sottosegretario Todde che, devo dire, sta presidiando in ugual modo con efficacia, non si può dire perché a me purtroppo c'è un atteggiamento unilaterale di un'azienda che decide di mettere liquidazione in uno stabilimento perché una trimestrale di cassa è rosso, non si è mai vista una cosa del genere. Dopo aver firmato sul tavolo di un ministero, quindi vuol dire sul tavolo del Governo italiano, insieme anche alla Regione Umbra, un accordo in cui si impegnava a fare alcune cose. Stiamo andando avanti, stiamo cercando di capire come poter procedere a livello legale nei confronti di un'azienda che ha usufruito di finanza comunitaria e proprio perché ha usufruito di finanza comunitaria avrebbe dovuto garantire l'impegno di non effettuare chiusure di stabilimento per i fondi in nessuna parte d'Europa, certo per i fondi che ha ricevuto per lo stabilimento di Brindisi. Stiamo capendo alcune legittimità sia nella conservazione dei materiali ma anche nel trasferimento di ordini da uno stabilimento all'altro. Il presidio è alto in questo momento, ma abbiamo un commissario di liquidatorio che manda le lettere di licenziamento. Quindi questa è una battaglia di sistema, di paese, di istituzioni nazionali. Quindi la vicenda dei 143 operai della Treofan non è una vicenda che la dobbiamo vivere come un'avvertenza solamente locale ma è un problema nazionale. Sul caso San Gemini la situazione è una situazione ugualmente complessa perché ci troviamo di fronte ad una società che ha una situazione debitoria drammatica e che ha presentato al Tribunale di Milano un concordato in bianco. Ahimè la presentazione del piano concordatario era attesa già dai tempi di giugno, anche in questo caso posso ribadire che la Regione Umbria è stata presente, ha chiesto più volte la convocazione di tavoli nazionali, è stata presente ai tavoli, ci stiamo cercando di attivare per creare, per poter intercettare tutte le possibili, come riportate in un comunicato anche redatto congiuntamente con la Presidente proprio di ieri, tutti quelli che possono essere gli interessi imprenditoriali, siamo ahimè in un piano concordatario, quindi con degli spazi di manovra molto limitati se non fino al momento in cui, e speriamo vivamente che non ci sia nessuna proroga dopo il 23 dicembre perché sarebbe inaccettabile. L'obiettivo della Regione Umbria comunque è di presidiare la situazione, abbiamo avuto in interlocuzione costante e continua sia con istituzioni nazionali sia con i sindacati, ci auguriamo comunque che anche l'attenzione sociale in questo momento possa essere in qualche modo controllata e su questo abbiamo fatto anche un invito alla proprietà ad ascoltare le stanze di un gruppo di lavoratori che non è solo preoccupati per il proprio destino, ma hanno a cuore il marchio e l'azienda per cui lavorano. C'è un'altra situazione che stiamo vivendo che è quella di Trafomec, anche qui la Regione è stata impegnata fin dall'inizio, fin da quando? A gennaio c'era stato un problema per il pagamento delle tredicesime, ci siamo attivati direttamente, abbiamo convocato la proprietà, siamo riusciti alla fine a sbloccare il pagamento delle tredicesime facendo rientrare uno sciopero e durante quest'estate abbiamo avuto anche interlocuzioni con questo nuovo assetto societario che porterebbe, che darebbe alla società una solidità un po' maggiore derivante da una società di diritto italiano, sapete bene che spesso quando si parla di società di gruppi all'estero a volte ci si perde anche su un gioco, non a caso si chiamano di scatole cinesi, perdonate il gioco di parole, con una società con un capitale sociale interamente versato di un milione di euro, cosa non irrilevante perché è una società che incomincia ad avere una patrimonializzazione reale, abbiamo cercato di interloquire con questo nuovo assetto che prevede come da lei ha detto anche un organo di governo di alto standing e ci auguriamo che questo possa, anche perché in questa nuova società confluiscono non solo il sito di Taverdelle ma anche il sito, due parole me le permetta Presidente perché sono di prospettiva, Treufam apre un tema rilevante, io sono convinto, siamo convinti che ai fini di questa regione proprio per le carenze di produttività, via dicendo, la sfida del polo chimico di Terni sia la sfida chiave da cui ripartire, non a caso stiamo ragionando per la costituzione a Terni di un acceleratore sui biomateriali che possa riguardare tanto le filiere di tutti i biomateriali che consenta la costituzione di un ecosistema per generare nuove competenze sulla chimica verde e anche il discorso di Trafome che mi permetta che riguarda un settore di trasformatori su cui l'Umbria ha un riconosciuto expertise internazionale, si lega in una logica di visione prospettiva anche al settore del magnetico e va da sé che questo potrebbe fare dell'Umbria un altro polo di specializzazione. Riteniamo che oggi l'Umbria ha bisogno di scelte coraggiose, le crisi si affrontano prendendo delle scelte anche non solo sui tavoli ma di prospettiva dove la specializzazione in alcuni settori diventerà la chiave per ricostruire un paradigma economico nuovo per questa regione. Grazie. Consigliere Paparelli. Noi condividiamo, Assessore, il fatto che si tratti di tre situazioni diverse e distinte, seppure fanno parte di questo quadro economico dell'Umbria emergenziale. Però, diciamo, mentre su Treofan siamo parzialmente soddisfatti della sua risposta, parzialmente dico perché bisogna avere una strategia che non ho sentito. L'unica strategia, mi avviso, è quella di costringere la proprietà alla vendita e alla restituzione del marchio, attraverso, insieme al Governo italiano, ovviamente essere uniti. E qui troverete la nostra vicinanza perché si arrivi a questo tipo di conclusione. Dico parzialmente perché lei omette in tutte le situazioni in cui noi, diciamo, parliamo di Dernia e del Ternano, che c'è uno strumento che, a mio avviso, deve essere ritirato fuori e messo in campo, che è l'area di crisi complessa, che è uno strumento che nei confronti del Governo, anche come elemento di contrattazione e di pressione, deve essere tirato fuori. L'abbiamo stipulato nel febbraio 2018. L'accordo ancora è valido fino al 2021, dovrà essere rinnovato in quella sede. Io penso che, siccome si fondava sulla siderurgia e sulla chimica, viene meno, diciamo, quell'impianto di riqualificazione, perché un disegno di riqualificazione industriale del Ternano c'è. La Regione l'aveva messo in campo insieme al Governo. Se poi non le seguiamo le cose e le lasciamo, come dire, morire per conto loro, sarà un ulteriore elemento di debulezza. Sulla San Gemini le dico che l'avvertenza è peculiare. Qui la Regione ha un ruolo chiave. Io penso che bisogna fare di più. Bisogna parlare con il Tribunale, fornirgli documenti e abbiamo due questioni fondamentali. Una è il rispetto dell'accordo del 2018 e il rispetto del contratto stipulato dall'azienda. C'è la determina dirigenziale del 2015, basta diciamo leggerla, nel momento in cui si trasferiscono le concessioni, si trasferiscono a condizione che si rilanci la produzione, si mantengano i livelli occupazionali, si potenzi la coltivazione e c'erano tutti impegni che non vengono rispettati. La scelta è che o si vende, si mette sul mercato oppure si revocano le concessioni. Non ci sono altre vie di uscita, non possiamo stare a aspettare questi continui rinvii. Sulla vicenda Trafomec, è concluso, si è preso qualche secondo. No, perché la Meloni ha fatto nove minuti. Sì, solo per completezza, diciamo. Siamo d'accordo, l'interlocuzione, la Trafomec che stava chiudendo, diciamo, il fatto che sia arrivato un gruppo che l'abbia rilevata in quel momento è stato fondamentale. Le interlocuzioni sappiamo che sono difficili con questi soggetti, però se, e in questo senso la consigliera Meloni ha presentato un atto, se insieme alla vicenda sull'area ritiriamo fuori e seguiamo al pari dell'area di crisi complessa, seguiamo il patto e l'accordo che io ho stipulato con Enel per la riqualificazione di quel sito, anch'esso fermo, diciamo, a un anno e mezzo fa, forse faremo qualche passo in avanti che aiuterà anche la vicenda e la vertenza Trafomec. Grazie a tutti.